Buonasera dallo stadio della favorita di Palermo, alle 20.45 comincerà in diretta la partita di C1, il posticipo tra Palermo e Juve Stabia. Una partitissima per il girone B della C1, la Juve Stabia è prima in classifica con 37 punti, il Palermo ne ha 36. 8.000, 9.000 i spettatori presenti, c'è tanto freddo alla favorita, 3 gradi fino a questo momento e fino alle 18 la partita è stata in forse. Ha nevicato ed è una cosa storica a Palermo, mentre in curva a sud sono arrivati stoicamente da Castellammare di Stabia 200 tifosi della Juve Stabia. È una partitissima, è certamente una partita di grande interesse, intanto a centrocampo si sta svolgendo la festa delle scuole calcio, della prima formazione che sta andando abbastanza bene e che nel fine settimana al Palaeuro di Roma giocherà le Final Four di Coppa Italia. Inquadrati i tifosi della Juve Stabia, arrivati da pochissimo e questi sono la festa e ballano i tifosi della Juve Stabia in tempesta. Sì, credo che quest'anno a Castellammare di Stabia si divertiranno fino alla fine con l'augurio che possano andare in 0 e B, dopo tanti anni... Sì, la partita è stata quella giocata come si può giocare, un palermo in attacco, una Juve Stabia ben messa in campo, che si è difesa molto bene, tra l'altro anche in 10 uomini, è il cliché stato quello. È mancato il gol, è mancato il colpo per vincere la partita e comunque le due squadre ci hanno provato, di più sicuramente il Palermo. L'augurio è quello sia al Palermo che al Juve Stabia di ritrovarsi di contare in 0 e B. Come del resto un complimento al pubblico che ha sito della partita, soprattutto al Reisat che ha fatto questa splendida iniziativa, veramente molto bella. Grazie per il commento tecnico a Pietro Ruisi. Ricordiamo il risultato, Palermo 0, Juve Stabia 0. Juve Stabia che ha giocato dal 25 stimo del secondo tempo in 10 per l'espulsione di Saladino. Dallo stadio della favorita di Palermo è tutto, linea Roma.